Buonasera a tutti, come avevo annunciato in live facciamo un riepilogo generale per quanto riguarda gli importi dell'assegno unico e le varie maggiorazioni. Con un ISEE fino a 16.215 euro, parliamo di assegno unico su domanda, per i figli da un anno e fino al compimento del diciottesimo anno di età l'importo per l'assegno unico è pari a 189,20 euro, mentre per un maggiorenne è pari a 91,90 euro. Poi scatta la maggiorazione a partire dal terzo figlio in poi che è pari a 91,90 euro. Ci spostiamo con un ISEE da 16.215 fino a 21.620 euro. L'importo per l'assegno unico del minore è pari a 162,20 euro, mentre per il figlio maggiorenne è 78,90 euro. Maggiorazione dal terzo figlio in poi pari a 76,80 euro. Da 21.620 euro fino a 27.025 euro, l'importo per i minori è pari a 135,10 euro, mentre per i maggiorenni pari a 65,90 euro. Maggiorazione dal terzo figlio in poi 61,60 euro. Poi da 27.025 euro a 32.430 euro, l'importo per l'assegno unico dei minori è pari a 108,10 euro, mentre per i figli maggiorenni è pari a 53 euro. La maggiorazione dal terzo figlio in poi 46,50 euro. poi da un ISEE di 32.430 euro e fino a 37.835 euro, l'importo per l'assegno unico dei minori è pari a 81,10 euro, mentre per i figli maggiorenni pari a 40 euro. Poi c'è la maggiorazione a partire dal terzo figlio in poi che è pari a 31,30 euro. Infine, da 37.835 fino a 43.240 euro, l'importo per l'assegno unico ai minori è pari a 54,10 euro, per i figli maggiorenni pari a 27 euro, l'importo per la maggiorazione pari a 16,20 euro. Parliamo ancora di maggiorazioni se nel proprio nucleo ci sono figli non autosufficienti fino al ventunesimo anno di età, che l'ISE sia zero o sia 43.240 euro, l'importo per la maggiorazione è pari a 113,50 euro. Se invece la disabilità è grave sempre per i figli fine a 21 anni, la maggiorazione è pari a 102,70 euro. Se invece si tratta di una disabilità media, la maggiorazione è pari a 91,90 euro. Questi importi che vi ho elencato sono al di fuori dell'importo dell'assegno, quindi vanno aggiunti all'importo dell'assegno.